dove stiamo andando? e che ne so no, tu guardarai no però guarda lì dove? tu guardarai ma guarda meglio se tu guardarai dove stiamo? vedi tutto portato da Marco buongiorno buongiorno ragazzi buongiorno perché tocca controllare che tocca controllare? niente e ne ha contattato dalle parti coglioni no 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 si no no vedrai che che drapola ah mannaggia c'è il nuovo dottore buongiorno ragazzi ecco il collega buongiorno adesso dovrò visitare un paziente speciale vediamo se assolutamente io mi fiedo di te va bene vorrei controllare questo ragazzo ok eccolo qua acqua chiuda acqua acqua chiuda bravissimo chiuda apra chiuda f*** non sei deficiente ma perché? non ti è piaciuto ma come? quando mi dici che mi fanno il tecnico il tecnico arrivi tu vestito da dottor che ha la cuffia ogni cosa ha fia le misure t'ho visitato testa di cazzo hai visto che bocconata di panna che fa? con la bomboletta sei venuto oltre con la bomboletta dopo andiamo a scherzare tutto contro la bomba fortuna carapanna